Eccoci insieme cari telespettatori, l'altro spazio di approfondimento. Abbiamo qui in studio con grande piacere il presidente di Confapi Padova, Carlo Valerio, grazie di essere qui con noi, perché riesce un po' con grande chiarezza e pacatezza a spiegarci bene determinate dinamiche e questioni. Allora, voi avete emesso un comunicato, forti dei dati di fabbrica del vostro ufficio studi, quindi con Fabrica Padova, è vero che non ci confondiamo, magari domani andete a competere con altri uffici studi, non è cosa da poco. Segnali di risveglio, ma serve una politica industriale che consente agli imprenditori di pianificare con stabilità. Allora, io voglio analizzare questo, segnali di risveglio perché ci dà un attimo di speranza, insomma di apertura in un momento in cui non tutto volge al meglio, l'abbiamo già parlato. E poi la questione serve una politica industriale e quindi qui parliamo di politiche industriali. Io vorrei anche colarciarmi alle questioni della legge di bilancio che è stata varata, alle politiche fiscali, si parla anche di revisione completamente del sistema fiscale, al reddito di cittadinanza, alla quota 100, a tanti provvedimenti che sono stati presi, poi adesso sembra anche ulteriori sgravi. Ci sono varie questioni, come la vedete voi? Un bel po' di cose, vero Presidente? Direi di sì. Allora, incominciamo, segnali di risveglio. Allora, intanto cominciamo con le cose positive. Esatto. E per ricollegarmi al Fabrica Padova, proprio oggi qualcuno mi ha detto, ma come? L'altro giorno sul giornale avete detto che le cose andavano un po' meglio, timidi i segnali, e poi invece vediamo notizie dove ci sono crisi in certe aree del mondo e quindi le aziende rischiano. E infatti anch'io è la stessa cosa. Lo so. Per quello non mi sono agganciata a questa cosa positiva. Ma certo, ma il fatto è che bisogna essere oggettivi, no? Cioè non è vero che, noi non dobbiamo dire che va tutto bene o che va tutto male, noi dobbiamo dire cosa sta succedendo e ci sono delle cose che vanno bene, altre che limitano, ma questo è avere un quadro di ciò che abbiamo davanti. Se no, noi agiamo su cosa? Sul dato positivo o su quello negativo? Bisogna che consideriamo che succede un po' di tutto. Per avere un quadro bisogna analizzare tutto. A volte le cose ci piacciono e ci piace dirle, a volte non ci piacciono, alcuni non le dicono, ma servono anche quelle, se no non ci si fa un quadro generale. Allora adesso andiamo con le cose buone. Sì. Che sono i timidi segnali di sviluppo. Allora noi abbiamo fatto, come sempre con Fabrica Padova, una analisi di ciò che è successo. Se guardiamo l'anno 2018 e poi il 2019, oggettivamente in giro per il mondo, ma anche in Italia e in Europa, c'è stata una diminuzione. Quindi dal 2018 al 2019 c'è stata una crisi che poi noi abbiamo rilevato, anche noi di crescita intendo, perché la crescita è diminuita o si è fermata. Però nel 2020, quello che noi vediamo dalle proiezioni, dalle previsioni, le cose miglioreranno leggermente. Ma prendiamo due dati, anzi tre, che possono essere interessanti. Nel 2018 la crescita del PIL, che è quel famoso indicatore che magari non è completo del tutto, ma più o meno, se non altro è uno standard, è stata del 3,6% rispetto al 17%. Nel 2019 è stato il 3%, quindi cresceva rispetto al 18%, ma non tanto quanto era successo l'anno precedente. Stai parlando del PIL regionale o del PIL? No, del mondo, questo come riferimento. Nel 2020 ci sarà un incremento del 3,4%, quindi sarà un andamento migliore rispetto a quello del 19 sul 18%, ma ancora peggiore rispetto a quello. Il tutto però, attenzione, che alla fine 3 più 3 più 3 fa quasi l'11% in tre anni, quindi c'è una continua crescita nel mondo. Questa è la media mondo. Se noi guardiamo la media Italia, nel 18 sul 17 c'era stata una crescita dello 0,9%, cioè un quarto di quella mondo, nel 19 lo 0,9%, nel 20 dovremmo crescere come 0,5% e questo vale per l'Italia. Il Veneto è in una situazione diversa perché nel 18 ha avuto una crescita dell'1,1%, quindi migliore di quella italiana, nel 19 1,04% rispetto allo 0, cioè migliore di quella italiana. Nel 2020 dovrebbe avere un ulteriore incremento dell'1,1%, cioè più del doppio rispetto a quella italiana. Che è dello 0,5%. Esattamente. Così. Perfetto. Questi sono, tanto per dire i numeri, poi se vediamo la Germania, la Germania ha fatto 1,5 nel 18, 0,5 nel 19 e 1,2 dovrebbe fare nel 2020. Questo ci fa vedere che in realtà il Veneto è in linea con la Germania se non in una condizione migliore. Ma questa zona qua è una zona particolarmente fortunata della nostra nazione Italia. Lei dice fortunata in realtà, vabbè ci può essere fortunatamente, la fortuna è costruita. Ficcente che si dà da fare, diciamo fortunata per non fare, insomma per non esagerare, è frutto di duemila anni o almeno mille e tanti di lavoro. Che cos'è che secondo lei, perché c'è un problema appunto del carattere nazionale, non funziona ancora e fa sì che ancora il Sud Italia grosso modo sia ancorato al parola crisi. Cosa che qui comunque, sono cambiate le cose, però non si può più parlare di crisi perché altrimenti diventa ridicolo nei confronti del mondo perché una crisi di vent'anni è paradossale. Sono cambiate le situazioni, le cose per cui le dinamiche sono cambiate, però invece nel Sud Italia purtroppo resta ancora. Che cos'è che non funziona? Lei da imprenditore, che avrà avuto anche magari rapporti e relazioni con altri imprenditori di altre parti del nostro paese. E questo non è, cioè è difficile generalizzare, perché ci sono delle zone, allora è tutta una rete di servizi che manca, perché… E che non consente di fare impresa quindi? Sì, perché… o comunque che è carente rispetto a quella nostra, insomma. Loro, molti meridionali, ma questo non è, voglio dire, gli abitanti dell'Italia del Sud, addebitano tutte le responsabilità, le difficoltà del Sud, non tanto allo Stato, quanto all'Unione, quando l'Italia è diventata una sola. Effettivamente il regno delle due Sicilie, ma soprattutto la Campania, erano molto avanti, anche tecnologicamente erano allo stesso livello, più o meno delle nazioni europee volute dal punto di vista tecnologico. Poi è successo qualche cosa, non saprei dire, la fotografia di adesso è che purtroppo ci sono vastissime aree della nazione che non riescono a decollare, ma c'è anche un atteggiamento un po' vittimista, purtroppo, che condiziona parecchio, perché ciò che è stato, che si è tentato di investire nel Sud dell'Italia negli anni della Repubblica è imponente. Non sempre ha ottenuto i risultati, anzi piuttosto raramente ha ottenuto i risultati e il divario purtroppo cresce. Certo è che magari l'errore è stato quello di cercare di innestare delle produzioni di un certo tipo in una regione, in un'area che non aveva i servizi e quindi uno aveva la grande acciaieria, ma basta. Quindi questo è, di sicuro è mancata una politica generale, ma secondo me, e molti me ne vorranno, un po' di responsabilità personale c'è. Esiste, perché tanti dicono voi, anche parlando con gli imprenditori del Sud, dicono siete nel Veneto, siete nelle zone di apertura dell'Europa, per cui ha due passi da questo, questo, questo. Questo è vero, però d'altra parte noi abbiamo imprese, lo sembra benissimo, che commerciano con realtà che sono dalla parte opposta, quindi Nord Africa, al di là delle crisi attuali più o meno, comunque il famoso Algeria, Turchia. Per cui la logistica, la colloquazione geografica ha un peso, ma fino a che punto? Perché anche lì l'interportualità, l'intermodalità, la viabilità, e allora la responsabilità dello Stato, quanto è pesante, quanto invece anche gli imprenditori stessi non si fanno forti di azioni da poter intraprendere? Se noi abbiamo governi che si succedono ogni due anni, una pianificazione lunga purtroppo è piuttosto difficile da fare. E poi magari non sempre c'è stata una visione di lunga prospettiva, perché adesso per esempio tutto il Sud dell'Italia, che è pieno di luoghi meravigliosi, unici al mondo, sta avendo un certo sviluppo turistico, che però non è largamente pianificato, è lasciato sempre al singolo, forse in quello bisognava poter fare di più. Negli anni c'è stato il desiderio di avere appunto zone di produzione industriale come quelle che c'erano al nord, ma se si innesta in una situazione contingente che non è in grado di generare i servizi, ma neanche le capacità, non perché non ci arrivino, ma perché sono orientate altrimenti, sono cose che non funzionano. Del resto comunque non è una cosa solo italiana, perché ognuno ha il suo Sud o il suo Nord. Per la Francia, il Nord della Francia è come il nostro Sud, un po'. Quindi con tassi di sviluppo diversi, mentalità diverse e anche gente che vede le cose in modo diverso e quindi magari ogni tanto si lamenta anche, non siamo solo noi italiani. Certo che noi abbiamo in più la camorra, l'andrangheta e la mafia. Quindi abbiamo delle peculiarità con cui ci facciamo forti, no? Sì. Esatto. E dopo, vabbè, non so se ci sarà tempo perché purtroppo non le infiltrazioni, il radicamento anche da noi e con connivenza anche di molte aziende del territorio purtroppo c'è stato, ha seguito anche della grande crisi. Certo. A questo si innescano delle politiche di sussistenza, di supporto per certe situazioni di bisogno. Reddito di cittadinanza, come lo vedete? Come lo vede? Noi, anche qua, credo, avevamo commentato con grande perplessità questa cosa. Anche perché è stata presentata molto male e con poca chiarezza, come succede sempre. Allora, di tutto il reddito di cittadinanza, di tutte le domande che sono state accettate come reddito di cittadinanza nella nazione, intanto c'è una sproporzione enorme perché la campagna da sola fa come tutto il resto, più o meno. In Veneto sono state pochissime, tra l'altro. E i due terzi, i due terzi delle domande presentate che hanno avuto il sussidio sono non occupabili. Non occupabili. Quindi quello che doveva essere un volano per entrare. Quello che teoricamente è occupabile e che quindi potrebbe diventare volano. Allora, io non sto dicendo che non si dovesse fare, altro che se c'è una parte dei nostri concittadini che non ce la fa a vivere, noi dobbiamo aiutarli. Questo è un dato di fatto. Il metodo magari non era quello. Non bisognava raccontare una cosa per un'altra. Bisognava probabilmente quegli stessi fondi darli ai comuni che di più conoscono le situazioni vere. Invece abbiamo fatto una cosa fatta così. Il risultato in termini, e mi sposto su questo, premesso che va bene aiutare chi è in difficoltà, cioè prendersi carico, essere vicini, deve fare questo una nazione civile. La parte lavoro è un disastro assoluto. Cioè non ha 28 mila lavori trovati in un anno. Ma perché c'è poco offerto? Perché sostanzialmente la base è anche... Perché il meccanismo è sbagliato, secondo noi. E anche questo l'avevamo detto, ma comunque adesso non diremo più, l'abbiamo detto perché non serve a niente. Ci troviamo in un'altra condizione. Allora, nella provincia di Padova, dove comunque sia... Adesso i numeri non li ricordo, ma mi ricordo le percentuali. Se consideriamo la totalità dei redditi di cittadinanza e i lavori generati, siamo sulla totalità al 3,6% di efficacia. Se consideriamo che due terzi comunque sono non occupabili e non devono orientare in quel conteggio, siamo all'uno virgola qualche cosa. Con una spesa media di 30 mila euro circa. Quindi ogni posto di lavoro vale 240 mila euro. Va bene questo, è una cosa efficace, funziona. Possiamo chiederci che cosa c'è che non va in questo. Dovremmo farlo? Anche perché, mi scusi, nel frattempo abbiamo assunto 4 mila, abbiamo noi Nazione Italia, 4 mila guide, Virgilio, non so come si chiamano. Benissimo, per generare praticamente niente, quelli si sono posti di lavoro che comunque sono a termine. Ma se il problema era quello di controllare la liceità di come il lavoro viene fatto in Italia, non era meglio assumere 4 mila ispettori del lavoro che andassero a vedere dove ci sono le storture, dove ci sono gli sfruttamenti, dove c'è il caporalato, dove c'è tutto questo. Per capire meglio. Perché noi abbiamo in Italia una politica del lavoro che di fatto, a parte alcune zone, non fa controlli sufficienti. E questo toglie diritti un po' a tutti. Assolutamente. Ecco, a proposito del mercato, lei si è lasciato, ed era necessario farlo, il mercato del lavoro. Come si presenterà, in base sempre a questi dati, se c'è un piccolo risveglio per, diciamo così, l'attività economica? Per il mercato del lavoro, cosa c'è nel nostro territorio? Come la vede? E quindi incontro a domanda offerta. Succederà quello che è già avvenuto. Quando c'è stata una stretta sui contratti a termine rinnovabili, le aziende comunque avevano bisogno delle stesse risorse lavoro di prima. Per cui i contratti rinnovabili si sono spostati all'interinale che assume il personale e lo dà in somministrazione e lavoro alle aziende. Questo ha fatto sì che nelle agenzie di lavoro interinale il numero degli impiegati aumentasse e che aumentassero i contratti con le aziende. Questo va anche bene perché chi entra con un contratto in un'agenzia di lavoro interinale è tutelato, il suo lavoro è controllato, è in sicurezza e tutto il resto. E questo è il meccanismo. Di fronte a una rigidità e anche a una farraginosità sui contratti di lavoro, di fatto si è aperto un altro canale. E quindi le aziende in questo momento questo stanno utilizzando. Poi le aziende serie, cioè quasi tutte, quando si rendono conto che possono stabilizzare i loro collaboratori, lo fanno perché nessuno assume per lasciare a casa. Ecco, lei ha sottolineato più volte il fatto che comunque non c'è un'offerta che possa soddisfare le aspettative delle aziende. Quindi le aziende hanno bisogno di certe figure professionali e il mercato non le dà. O se ci sono, sono totalmente nascoste che non si vedono. Che cos'è che dovrebbe... Beh, e qua c'è l'altro grande tema che è quello dell'orientamento scolastico e al lavoro che in Italia di fatto non c'è. Perché fin quando le scuole e prima lo Stato non dialogheranno con le imprese, ci sarà sempre questo scollamento. Non c'è ancora questo dialogo? No. No, no, non c'è assolutamente. Non c'è. Noi abbiamo gli tecnici superiori che non sono quelli dell'istituto tecnico, ma sono le 2000 ore che vengono fatte post diploma, che sono ancora pochissime in Italia. Eppure chiunque frequenti uno di quei corsi... Trova occupazione. Trova il lavoro al 90% il giorno dopo. Le vostre aziende cercano personale? Le nostre aziende cercano sempre personale, ma è sempre più difficile trovarlo, perché le aziende hanno delle necessità... Le aziende che sono rimaste in piedi sono quelle che sono cresciute e... Sono più competitive quindi. Sono competitive, ma per diventare competitive hanno dovuto aggiornarsi. Eh sì. E questo è il meccanismo. E allora se l'azienda si aggiorna, ma non trova poi risorse umane in grado di seguire e di far maturare ulteriormente questo sviluppo, si entra in difficoltà. A proposito di reddito di cittadinanza è quota 100. A me era sempre venuta in mente una cosa, perché avevo visto degli esempi di questo tipo. Se invece di spendere soldi di qua e di là, noi avessimo pensato a un percorso di accompagnamento da parte di chi era vicino al pensionamento, di qualcuno che potesse sostituirlo, sostituirlo, con uno sgravio fiscale per il lavoratore che restava al lavoro e che quindi vedeva una parte di ciò che paga di tasse direttamente nel suo stipendio e un finanziamento di chi veniva affiancato per imparare qualche cosa, probabilmente non avremmo perso milioni di esperienze lavorative che pian piano stanno andandosi. Perché la formazione va bene, la scuola va bene, ma la formazione che avviene attraverso la condivisione dell'esperienza, se non viene usata, è perduta per sempre. Assolutamente. Lei quindi non vede bene neanche questo progetto che è stato fatto, che poi sarà a termine, non si capisce cosa faranno, perché parlo anche di altre quote, quote a 100. No, per niente. Doveva, secondo me, essere tutelata tutta quella fascia di persone che si era trovata in un labirinto normativo che è quello degli esodati. termine terribili. Di quelle persone bisognava, era un obbligo della nazione prendersi carico. Ma poi quello che è immesso in questa quota 100 avrebbe potuto tranquillamente essere utilizzato meglio, per esempio, nella riduzione del cuneo fiscale. Che è un problema enorme e che le timidissime iniziative che il governo sta proponendo potranno modificare ben poco, perché parliamo di poche centinaia di euro all'anno, mentre bisognerebbe essere molto più incisivi, perché ogni euro che entra nelle tasche di un cittadino lavoratore viene moltiplicato perché l'economia cresce. Perché muove l'economia, perché le persone in servizi, in qualcosa, però sempre non le tengono necessariamente fermi lì. E qui mi rilascio all'ultima questione, cioè la politica anche industriale e economica del nostro Paese. Proprio due parole con la legge di bilancio che è stata, la legge di stabilità che si voglia, è stata varata di recente. Come la vedete? Allora, intanto io devo dirle che non l'ho ancora vista bene. Ma in tutti i risultati mancano anche decreti trattivi. Allora, è molto timida, come sempre, ma è di nuovo il frutto di equilibri molto instabili da mantenere a tutti i costi, perché a votare non vuole andarci nessuno, perlomeno nessuno di quelli che in questo momento sono in maggioranza, ma non sono solo loro. All'Italia manca un progetto nazione. Che cosa saremo noi fra dieci anni? Avremo sviluppato molto il turismo di qualità, avremo sviluppato molto la tecnologia, ma qualcuno deve chiedersene queste cose. E se no, ogni volta che c'è una legge di bilancio ci sono delle piccolissime toppe che vengono messe di qua e di là, facendo anche cose che secondo noi sono proprio sciocche. Una, anzi, sono due. Una è quella sulla plastica e l'altra è quella sullo zucchero. Ah, la plastic tax e la sugar. Per avere quanto? Poche centinaia di milioni, a parte che oramai parliamo dei milioni e centinaia come se fossero niente, ma sono tanti. Noi abbiamo messo in crisi le aziende. Ci sono delle aziende che se ne vanno a produrre da un'altra parte, ma soprattutto non abbiamo inciso per niente sul vero problema, perché il problema non è la bottiglia di plastica, è il cittadino, anzi non è neanche un cittadino, è l'infame che la butta per terra. Massima proposta. Ma è stata una strategia per recuperare soldi, colpendo un settore. Sono toppe, no. È ovvio. O noi abbiamo il modo davvero di guidare dei comportamenti che siano un po' più civili, e se no non veniamo a prendere in giro i cittadini. Assolutamente. Non si può da un giorno all'altro aumentare del 50% il costo di una componente senza prima o parallelamente aver iniziato un percorso di approfondimento, di studio, di valutazione su ciò che può esserci di alternativo, anche di normative che spingano in una direzione o in un'altra. Quando noi compriamo il dentifricio in Italia, è un dentifricio in tubetto di plastica dentro a una scatola di cartone. Perché c'è la scatola di cartone? Ah, non si sa. No, voglio dire... Allucinante, infatti, sì, sì. E dopo uno, vabbè che viene riciclata, ma è un atteggiamento, cioè noi dobbiamo cambiare gli atteggiamenti e anche porci domande che sembrano apparentemente sciocche come questa. Cominciamo a chiederci di più perché e poi magari arriverà a chiederselo anche qualcuno che dovrebbe farlo per lavoro o per incarico ricevuto sul mandato del popolo. Non resta che sperare di nuovo. Di provarci, no, la speranza di per sé è positiva, però se è speranza e basta, in attesa della misericordia, va bene se siamo fedeli, ma bisogna darsi da fare tutti. Assolutamente. Presidente, grazie mille ovviamente del suo apporto, grazie a voi telespettatori, anche in questa parte abbiamo dato dei messaggi molto importanti, anche dei percorsi logici che è importante assimilare e capire. Io vi lascio alla pubblicità, dopo la pubblicità torniamo insieme in studio con la finanza. Tra poco.